Ciao a tutti, benvenuti nel interessante canale delle confessioni. Oggi ascolteremo la vendetta della donna che ha tradito il marito. Il mio giorno è iniziato abbastanza normalmente, mi sono svegliato presto, mi sono sistemato, ho baciato Sofia a Dio mentre dormiva e sono partito per il mio lavoro in cantiere. Ebbene, avevo una sorpresa che mi aspettava quel giorno. Un giorno ordinario sarebbe diventato straordinario entrosera mentre lavoravo nel cantiere. Il mio telefono vibrava in tasca. L'ho preso e ho visto un messaggio dal mio vicino Marco. Luca, il tuo garage è aperto, diceva. Ho trovato strano poiché ricordavo distintamente di averlo chiuso. Ho ringraziato Marco e gli ho chiesto di chiuderlo se non gli dispiaceva. Ha accettato e sono tornato al lavoro. Tuttavia, la mia mente è rimasta bloccata sulla porta del garage aperta. Non sapevo perché, ma qualcosa sembrava un po' strano. Decidendo di fidarmi del mio istinto, ho fatto un pranzo anticipato e sono tornato a casa. Mentre mi avvicinavo a casa, il mio battito cardiaco iniziava ad aumentare. C'era un'auto strana parcheggiata nel mio vialetto, una che non avevo mai visto prima. È in quel momento che un sentimento nauseante mi ha invaso. Ho parcheggiato silenziosamente il mio camion sulla strada e sono entrato silenziosamente nella mia casa. Ho aperto la porta laterale attaccata al garage, che non era chiusa a chiave, e nemmeno la porta che entrava in casa dal garage. Mentre camminavo per casa senza le mie scarpe, sono entrato nella scena più devastante del cuore. La mia Sofia, mia moglie, tra le braccia di uno sconosciuto. Si stavano baciando entrambi, avevano pochissimi vestiti addosso proprio davanti a me. Tutto ciò che sentivo era rabbia, e vedevo rosso, il mondo girava intorno a me, sentivo che stavo per vomitare. Ho fatto qualche passo indietro, ho tirato fuori il mio telefono, mi sono assicurato che il flash fosse spento, e ho scattato alcune foto di loro che si baciavano, e un piccolo video di loro insieme a casa mia. È in quel momento che ho capito che la vendetta non mi avrebbe fatto sentire meglio. La migliore vendetta sarebbe stata far capire a Sofia cosa stava perdendo. Era ora di un piano intelligente, un piano che mi avrebbe permesso di uscire da questa situazione a testa alta. Dopo aver visto quello che ho visto, ho preso un momento per riprendere fiato. Mi sono allontanato da casa senza fare un rumore. Il mio cuore sembrava un pezzo di piombo, ma avevo un amico avvocato. Gli ho raccontato cosa era successo, e gli ho chiesto consiglio. Vivevamo in North Carolina, quindi, per cercare di pagare la minima quantità di assegno di mantenimento, dovevo avere delle prove. Le avevo, e le ho mostrate al mio amico, che era un avvocato. Non era un avvocato divorzista, ma mi ha detto da dove iniziare, e mi ha aiutato a capire quali passi dovevo fare per proteggermi. Mi ha dato il numero di un avvocato divorzista molto rispettato. Secondo lui, era piuttosto bravo. Quando ho incontrato l'avvocato divorzista, abbiamo messo tutto sul tavolo. Subito ha indicato che la North Carolina era uno stato senza colpa, ma il tradimento poteva influenzare il pagamento dell'assegno di mantenimento al coniuge ricevente. Abbiamo messo insieme la documentazione per il divorzio e pianificato come procedere. Sofia non aveva idea di cosa stesse succedendo. Alcuni giorni dopo, il mio avvocato ed io, abbiamo organizzato di incontrare Sofia in un caffè locale. Sofia è stata sorpresa di vedermi lì. Luca, cosa succede? Ha chiesto con gli occhi spalancati per la confusione. Ho fatto scivolare i documenti del divorzio sul tavolo. La confusione di Sofia si è trasformata in shock. Luca balbettava. Non capisco. L'ho guardata, il cuore dolorante. Credo che tu capisca Sofia, ho detto. Ti ho vista con lui. Sofia è diventata pallida e ha iniziato a piangere, scusandosi. Ma sapevo che la mia decisione era giusta. È stato doloroso. Alla fine, Sofia non ha firmato i documenti di divorzio. Ero già uscito di casa e avevo trovato un piccolo appartamento per me. I genitori di Sofia possedevano la casa, quindi non ero preoccupato per quello. Il giorno dopo che ha ricevuto i documenti di divorzio, i suoi genitori l'hanno aiutata finanziariamente, così che potesse ottenere il suo avvocato. Ma una volta che i suoi genitori hanno scoperto che la stavo divorziando, non erano felici, ma non sapevano perché stavo divorziando da loro figlia e supponevano che Sofia non avrebbe detto loro. Così ho deciso di informarli con le foto e il video che ho fatto quando ho visto Sofia nella nostra casa con questo ragazzo. Ho spedito un pacchetto ai suoi genitori, così che potessero vedere perché stavo divorziando da loro figlia. Circa sei settimane dopo l'udienza per il divorzio, i suoi genitori non si sono presentati e il mio avvocato mi ha informato che avrebbe cercato che era una possibilità remota, ma voleva farmelo sapere. Dopo l'udienza, l'avvocato di mia moglie ha sostenuto che, secondo lei, non ero un buon fornitore e che ero mentalmente abusivo. Ha continuamente mentito in tribunale e, ad un certo punto, il giudice l'ha avvertita di assicurarsi che tutto ciò che stava dicendo fosse accurato, poiché avrebbe potuto avere dei problemi se avesse mentito in tribunale, cosa che stava facendo. Tuttavia, abbiamo mostrato al giudice le prove e mi ha concesso il divorzio, senza assegnare alcun assegno di mantenimento a mia moglie. Il giudice mi ha dato esattamente 30 giorni per prendere il resto delle mie cose dalla casa, nel caso avessi lasciato qualcosa indietro. Avevo solo alcune scatole di attrezzi da prendere. Circa tre mesi dopo il divorzio, ho fatto accordi per prendere le mie cose. Quando sono arrivato nel vialetto di casa, la stessa auto che avevo visto quel giorno era parcheggiata lì. La vista della sua auto mi ha colpito all'inizio, ma è rapidamente svanita. La porta del garage era stata lasciata aperta di proposito questa volta, così potevo prendere le mie cose. Un giorno ho ricevuto un messaggio da Elena che voleva incontrarsi. Ho accettato, curioso di sapere cosa volesse. Ci siamo incontrati allo stesso caffè, dove le avevo dato i documenti di divorzio. Sembrava diversa. Non la donna felice e sicura di sé che ero abituato a vedere, ma un'ombra del suo vecchio sé ha iniziato a parlare della sua vita, come rimpiangeva le sue decisioni e quanto mi mancava. Mi sentivo distaccato, immune alle sue parole. L'ho ascoltata in silenzio e quando ha finito l'ho guardata. Elena, ho detto, ti auguro il meglio, ma quella parte della mia vita è finita. Anche dopo che ho detto che era finita, ha provato a convincermi a tornare insieme, affermando che non vedeva più quel ragazzo. Mentre mi allontanavo dal caffè, ho capito che avevo vinto, non perché Elena fosse pentita o triste, ma perché ero felice. Avevo cambiato la mia vita, trovato la mia forza interiore ed ero andato avanti. Circa sette mesi dopo, il padre di Elena è morto. Non si è mai scusato per essere stato arrabbiato con me per il modo in cui mi ero comportato quando aveva scoperto che stavo divorziando da sua figlia, ma sua madre si è scusata e mi ha chiesto di partecipare al funerale. Quasi non ci sono andato, ma non avevo niente contro la mamma e non ero il tipo di uomo che serba rancore. Quel che è fatto le settimane è fatto. Si diceva che Elena stesse avendo più problemi con la legge. È stata arrestata per guida in stato di ebbrezza un fine settimana e il suo nuovo ragazzo è violento, oltre a spacciare droga dalla casa di sua madre. Come lo so, la tua madre mi chiama ancora di tanto in tanto. Oh, eravamo sposati solo per otto anni, quindi avrebbe potuto comunque ottenere l'assegno di mantenimento, probabilmente per metà del tempo che eravamo sposati, ma ha tradito e ha influenzato l'esito. Secondo me questo giovane si è comportato abbastanza bene. Non è diventato violento, ha ottenuto delle prove rapide ed è continuato a muoversi. Molte persone non sarebbero state così calme in quella situazione. Ha usato il sistema giudiziario per la sua battaglia, ma penso anche che sia stato fortunato nello stato della Carolina del Nord perché la Carolina del Nord è uno stato senza colpa, ma con una riserva. Il tradimento può influenzare l'esito dell'assegno di mantenimento. Inoltre, anche quando i suoi genitori non erano dalla sua parte alla fine, hanno ancora mostrato grazia. Secondo me, serbare rancore non è mai una buona cosa. A seconda di cosa sia, sono un fermo credente che il tempo guarisca tutte le ferite. Alcune ci mettono solo più tempo di altre. Fino alla prossima volta. Puoi iscriverti al nostro canale YouTube per ulteriori confessioni. Ciao a tutti! Benvenuti nell'interessante canale delle confessioni. Oggi ascolteremo la confessione di Alessia, che ha avuto una relazione proibita con il fratello del marito. Se hai una confessione, puoi inoltrarla all'account che appare sullo schermo. Senza perdere troppo tempo, lasciate che vi racconti cosa ci ha trasmesso la signora Alessia. Mi chiamo Alessia. Ho visto persone postare confessioni su questo canale. La mia confessione è un po' diversa. Potete biasimarmi, ma io non vedo difetti in me stessa. Questa è la relazione proibita tra il fratello maggiore di mio marito, Francesco, e noi due. Il vero Francesco avrebbe dovuto sposarmi. Avevo risentimento nei suoi confronti. Come ha potuto scegliere una bella signora come me? Mi ha letteralmente usato. Sono una donna simile a una modella, con un'altezza di 160 cm. Mi prendo molta cura di me stessa. Le caratteristiche del mio corpo sono attraenti per ogni uomo. Ascoltate attentamente che tipo di persona sono. Mi sono sentita usata. È vero che Francesco aveva una famiglia, ma l'uomo era stato sposato diverse volte e aveva divorziato continuamente. Ho visto il problema nelle sue mogli, ma dopo essere stata con lui, ho capito che il vero problema era Francesco, che si preoccupa molto delle persone prima di tutto e le fa sentire valorizzate e regala loro sogni. Ma dopo averlo usato, interrompe completamente la relazione e ci trascina nella depressione. Dopo che mi ha lasciato, mi sono ritrovata in una posizione ancora più infelice con mio marito. A proposito, ero con il fratello di mio marito quando ero sposata con lui e non me ne vergogno. La colpa non è mia, ma di mio marito. Sì, avete sentito bene, la colpa è di mio marito. Ecco perché ho deciso di raccontarvi tutta la mia confessione. Spero che mi capirete. La colpa di mio marito in tutto quello che è successo è che non mi soddisfaceva e non era affatto romantico. Do la colpa a mio marito per questo. Non lo amavo affatto, ma i miei genitori mi hanno dato in sposa perché avevano soldi. Non è bello, è calvo e basso. Suo fratello maggiore, Francesco, è un giovane, è alto e molto bello. Ero innamorata di lui dalla prima volta che l'ho visto. Ero anche una donna molto bella. Avevo un bel corpo ed ero una donna con cui ogni uomo vorrebbe stare. Avevo circa 70 anni di altezza e pensavo di avere un bel corpo. Mio marito, Enesse, non mi meritava. Potresti pensare che io sia ingiusta nei suoi confronti, ma per favore mettiti nei miei panni. Non credo. Se mi chiedete perché sono infelice, ve lo racconterò. Ti capirei se fossi d'accordo con mio marito per ultimo, ma per me è importante riversare quello che c'è dentro di me. Sto condividendo questo per vedere se c'è qualcun altro che mi capisce e ha questi sentimenti. Il mio nome è Alessia. Ora ho 30 anni e ho due figli. Nessuno conosce questa confessione, tranne il fratello di mio marito e me. Ero una donna cresciuta nel villaggio e mio marito era di città perché la mia famiglia aveva bisogno di soldi e i miei genitori mi avevano data in sposa a lui perché aveva pochi soldi. Ero la più bella delle ragazze del villaggio. Anche se le ragazze dicevano che mio marito era brutto, lui mi diceva che aveva soldi andare a divertirsi, almeno me lo disseva? Mi motivava a vedere posti che noi non potevamo vedere. Mi sono innamorata di tutto questo, ma mio marito era una persona molto, molto noiosa. Trascorre i fine settimana a casa e non va mai in vacanza. Ricordo che andavamo in pochissimi posti. Non capisco come posso avere un marito così noioso. Abbiamo soldi, ma sono sufficienti per il nostro cibo. Sono abbastanza per le nostre vacanze, ma mio marito è molto noioso al lavoro. Non è mai stato da nessuna parte. Suo fratello maggiore, Francesco, viaggia in tutto il mondo. Non c'è quasi paese in cui non sia stato. Il ragazzo è molto divertente e molto romantico. Guardo i regali che compra per le sue mogli e il valore che mio marito mi dà è zero rispetto a lui. Da quando sono cresciuta nel villaggio, non avevo mai visto nessun posto. Era la prima volta che venivo in città o qualcosa del genere. Avrei voluto andare a gironzolare, ma quest'uomo di legno non l'ha fatto. Comunque, i giorni erano così e io avevo un figlio, questo marito Enesden. Non potevo divorziare da lui, ma dovevo stare con lui fino alla morte per il bene di mio figlio. Francesco veniva da noi qualche volta ed era un piacere per me chiacchierare con lui. L'uomo conosceva il mondo intero e ogni volta che veniva, raccontava i ricordi che aveva nei paesi che visitava, aveva divorziato dalla sua nuova moglie e viveva da solo. Mi ha detto che presto sarebbe andato in Grecia e che aveva bisogno di stare con una donna per lavoro. Mia moglie non ce l'aveva, mi ha chiesto se potevi venire, era una settimana di lavoro e avrebbe coperto tutte le mie spese. Ho dovuto chiedere il permesso a mio marito. Mi chiedevo se questo ragazzo sarebbe stato geloso. Gli ho detto di venire, ma lui ha detto di no, vai tu e io mi prenderò cura di nostro figlio. Ho detto che se non c'è problema ci andrò. Francesco mi ha detto quando sarei andata, mi ha detto di prepararmi bene. Così ho comprato i miei abiti più belli ed eleganti che non ho ancora indossato da nessuna parte. Dal momento che copriva tutte le mie spese per il biglietto, gli unici soldi che spendevo erano per la mia bellezza. Finalmente quel giorno arrivò e io e Francesco andammo in Grecia. Ci siamo messi d'accordo con un albergo e dopo aver messo lì tutte le nostre cose, Francesco mi ha detto di uscire. Il colloquio di lavoro era domani e ci bastava andare a viaggiare per questo giorno. Io e il fratello di mio marito abbiamo viaghiato per tutta la città e ci siamo divertiti. Così tanto c'è stato il giorno più bello della mia vita. Francesco era una persona molto simpatica e divertente. Allo stesso tempo era bello, quindi mi sono sentita felice nel momento in cui mi sono trovata accanto a lui. Senza alcuna preoccupazione, era come se fossimo marito e moglie. Viaggiavamo fino a sera, eravamo polvere. Non c'era limite alla mia felicità. Quel giorno volevo consegnarmi a Francesco. Era sera e siamo tornati all'hotel con Francesco. Era un posto a 5 stelle, ed era di altissima qualità. Siamo andati in camera, avevamo le nostre cose in una stanza e non volevo andare al piano di sotto e chiedere un'altra stanza. Ho detto che avremmo dormito insieme. Francesco versò dei drink e me li porse, ed entrambi iniziamo a bere e a chiacchierare. Dopo aver bevuto, gli ho raccontato tutti i problemi di mio marito. Francesco diceva che mi capiva, ma riuscivo a togliermi di mezzo con piccole cose eccitanti. Non c'era altro modo. Ma non potevo divorziare da mio marito. Dovevo stare con lui per il bene di mio figlio. Ma ora ero lontana da mio marito, e davanti a me c'era Francesco, ed eravamo entrambi ubriachi. Mi sono avvicinata a Francesco e gli ho detto che lo amavo involontariamente, e ho iniziato a baciarlo. Mi disse che mi amava e che saremmo stati insieme fino al mattino, e dopo esserci tolti i vestiti, siamo andati a letto. Vorrei che quei ricordi tornassero, ma non esistono più. Siamo stati con Francesco quel giorno fino al mattino. Ho iniziato ad amarlo sempre di più. Francesco era un mostro. Avevo sempre desiderato sposare un uomo così. Mio marito non si comporta in questo modo contro di me. Quando eravamo in Grecia quella settimana, stavamo insieme ogni volta che potevamo. Avevo dimenticato di avere un marito e un figlio. Quella settimana mi ero data a Francesco e mi piaceva molto stare con lui. Arrivò il momento e io e Francesco tornamo indietro. Mio marito non era affatto geloso di me. Chiunque fosse non avrebbe mandato sua moglie da sola con suo fratello. Ma mio marito non mi amava. Sapevo che non se n'era andata perché avevamo dei figli. Un marito del genere non lo sarà. Appena tornato in patria dalla Grecia, Francesco non mi ha più parlato. Pensavo che mi stesse usando. Mi sono detto perché? Poi, dopo non averlo visto per molto tempo, ho scoperto perché le sue mogli lo avevano lasciato. Quest'uomo usava le donne e le gettava in un angolo. Non c'era donna che amasse per lui. C'era una donna che voleva usare e io ero una di loro. Aveva organizzato tutto apposta. Era uscito con me di proposito. Non ha un'altra donna perché si interroga sul piacere di stare con la moglie di suo fratello. Non potevo rivelare a mio marito i nostri segreti. Non volevo essere un fratricida. Dopo l'arrivo di me e mio marito, non siamo riusciti a stare insieme come si deve. Non mi piaceva più e non mi piaceva come il padre dei miei figli. Ho chiamato spesso Francesco e gli ho scritto, ma non rispondeva. Un giorno, quando mio marito non c'era, è venuto da noi e l'ho messo con le spalle al muro. Ma mi ha detto di dimenticare quello che avevamo fatto e ha detto che tutto quello che era successo era stato un errore. Ero felice di avere di nuovo l'opportunità con lui, ma lui non mi voleva e se ne andò di casa. Da allora tra me e Francesco non è successo più nulla, né ho avuto un rapporto vero e proprio con mio marito. Sì, abbiamo avuto un altro figlio, ma anche questo è stato il figlio del nostro matrimonio. Sai cosa succede anni dopo? Sì, era quel ragazzo. Amo i miei figli e ormai sono abituata a questa vita. Puoi iscriverti al nostro canale YouTube per altre confessioni e al nostro canale Telegram per incontrare gli amici. Cari spettatori, iscrivetevi al canale e date un pollice in su al video in modo che YouTube possa consigliarvi nuove storie e capitoli. Se la storia non ti piace, puoi sempre togliere il like. Grazie per il tuo supporto. Ed eccoci qui, sulla strada della felicità, capitolo 3. Guardai Amelia mentre usciva dalla piscina e la seguì. Avrei anche potuto essere punita per il crimine di qualcun altro quando ho nuotato fino al bordo della piscina. Damen era già seduto lì, sorridente, ad aspettarci. I suoi occhi sembravano invitarmi ad avvicinarmi, ma ero nervosa per quello che aveva in serbo per noi, per aver infranto le sue sacre regole. Girati e piegati, disse freddamente, roteando il dito per indicare esattamente ciò che voleva. Con le mani sulle ginocchia, Amelia sgranò gli occhi, ma fu la prima ad assumere la posizione. Io feci lo stesso e poi lui fece qualcosa che mi fece arrossire, notando che Abel aveva tirato fuori il suo telefono e stava ovviamente registrando. Conoscevo bene lui e il suo ramarico in live streaming. Dietro di noi rimasi in silenzio, in attesa, sentendo le mie gambe tremare. L'attesa sembrò un'eternità. Il tempo si era letteralmente fermato, mentre tutti aspettavamo che Abel riagganciasse il telefono. Non appena lo fece, la mano di Damen scese bruscamente, prima su di me e poi su Amelia, provocando in entrambe un urlo di dolore, intensificato dai nostri vestiti bagnati. Che ragazzacce, giuro, quelle due non riescono mai a stare fuori dai guai, commentò Damen, dandomi un altro schiaffo sul sedere e poi passando ad Amelia. Ci stava dando dentro con forza. Aaron si avvicinò e si chinò verso il mio viso, portando delicatamente la sua mano sulla mia guanzia. Non sono sicuro che la ammorbidirà, disse sorridendo, indicando che era piuttosto ferma nella sua posizione. Avevo ghiacapito da che parte stava, che la del traditore. Mi allontanai da lui e lansiai un'occhiata scherzosa al mio amante. Ovviamente questo avrebbe fatto arrabbiare gli altri uomini del gruppo, per quanto fosse carino. «Ehi, sai, non si siamo comportati bene», disse ad Amelia, provocando un'altra sculacciata. Il suono era incredibilmente soddisfacente e nitido. Avrei voluto essere dall'altra parte per assistere e vedere chi erano i responsabili della violazione della sua regola. Abel e Aaron mi fece notare, si erano avvicinati un po', sbirciando oltre il bordo della piscina. Abel mise con disinvoltura e senza sforzo la mano sulla spalla del mio ragazzo, tirandolo scherzosamente verso di sé, sorridendo mentre parlava. «Non preoccuparti, se non vuole dimostrarti affetto, lo farò io», mi resi conto che stava solo cercando di provocarmi. Inspirai bruscamente. La forza del colpo mi fece vacillare un po'. «Ai, smettila», mi voltai verso di lui, non potendo fare a meno di essere un po' audace dopo le tante sculacciate di quella mattina. Damian sorrise e mi prese i polsi tra le mani. «Poverina, era a chiedere troppo?» «Non mi permise di allontanarmi di più da lui. Avevo paura di avvicinarmi, per non ricevere un'altra punizione. Ma quando mi tirò verso di lui, mi baciò. Fu un bacio veloce e fugace sulle labbra, prima che lo interrompesse e mi guardasse negli occhi con il suo gelido sguardo blu. «Credo che tu capisca. Non è vero, Amelia. Forza!» Lei emise un grido sommesso, tremando dalla sua posizione ancora piegata, prima che Daman si allontanasse da me e si avvicinasse a lei, costringendola a stare dritta per poterla schiaffeggiare. «Brava ragazza, ma devi addestrare meglio la tua amichetta!» sorrise, con un luccichio negli occhi, mentre guardava tra di noi. Era come se avesse già un'idea in mente. Daman tenne i suoi pensieri per sé, anche se probabilmente voleva riflettere ulteriormente. La sua attenzione si spostò su Aaron e Abel, che si trovavano a pochi metri da noi. Sgranando gli occhi, si allungò e diede uno schiaffo ad Aaron, facendolo rabbrividire. «Voi due sarete i prossimi! Devo mettervi il guinzaglio!» Mentre Daman prendeva in giro gli altri due. Io scivolai via verso la casa della piscina per cambiarmi con i vestiti bagnati. Iniziai a strapparli, non appena varcai la soglia e gettai tutto nel cesto della biancheria della mia camera da letto. Con l'aria fresca della casa, persino la mia pelle sentiva freddo per l'umidità. Ho sospirato dolcemente, alla vista di Daman. Era proprio in questa situazione che dovevo trovarmi, potenzialmente troppo per me, eccessivamente grezzo, mentre Aaron era dolce e romantico, o almeno così sembrava. Anche se sapevo che recitando questo ruolo avremmo potuto sostenere le nostre finanze per mesi. Non volevo rovinare nulla per Aaron. Mentre mi trovavo davanti allo specchio per dare un'ulteriore occhiata al segno rosso, sul mio sedere senti qualcuno entrare nella camera da letto e bussare delicatamente alla porta. «Live, sei qui?» La voce amabile di Amelia proveniva dall'altro lato. Sorrisi, mi stiracchiai, e aprì la porta per lasciarla entrare. Ancora con i suoi vestiti bagnati. «Stai bene», ciese. La preoccupazione era evidente sul suo volto mentre esaminava il mio corpo. Ben presto, il suo sguardo si posò sul segno rosso. Era stato un po' brusco. Le sue dita erano delicate come piume mentre mi sfioravano il punto dolente. «Sì, immagino sia un po' prematuro per qualcosa del genere», risposi con una risata leggera, sentendomi sciocco per aver permesso che mi facesse così male. Avevo già dimostrato ad Aman di poter sopportare molto di più. Ero persino arrossito mentre costringevo quasi Amelia a inginocchiarsi dietro di me. Ho dato un sussulto, e ho anche saltato leggermente, facendo ridacchiare l'altra ragazza. «Mi dispiace? È troppo?» Amelia mi chiese, desiderando solo calmarmi un poco. Forse un po' di ilusione. Amelia cercò di alzarsi, ma io posai una mano sulla sua spalla, tenendola ferma. All'inizio fui sorpresa anch'io da quel gesto, e non sapevo cosa dire. La guardai semplicemente prima di parlare. «No, questo mi ha davvero aiutato», dissi, trovando la situazione un po' imbarazzante. Ma Amelia passò dalla confusione a un sorriso radioso che illuminava il suo viso. Le sue mani erano di nuovo su di me. Questa volta entrambe riempivano le mie guance mentre faceva del suo meglio per non irritare il punto dolente. Avevo portato le mie mani a coprire le sue, godendo di quanto fossero morbide e delicate. E le guidai, senza preoccuparmi del dolore, mentre mi massaggiava profondamente. «Voglio vederti con lei», la voce di Aaron echeggiava nella mia testa, mentre decidevo di girarmi lentamente. Amelia diede un'occhiata a ciò su cui stava lavorando e si inginocchiò, baciando proprio quel punto. Ho dato un sussulto, lanciando la testa all'indietro per la sensazione. «Chiaramente aveva Ghia fatto questo prima, mentre mi aggrappavo al lavandinò dietro di me, facendo del mio omeglio per non cadere. Ah, meraviglioso!» esclamai, posizionando una delle mie gambe sulla spalla snella della donna. Le mie dita si aggrovigliarono tra i suoi capelli e li graffiarono. Amelia aveva davvero talento. Capivo perché piacesse così tanto. Ero già sul punto di perdere il controllo, con la testa gettata all'indietro e il tallone premuto contro la sua schiena. «Signore, siete pronte?» La voce di Abel risuonò dalla casetta in piscina. Gemetti leggermente, mentre ci guardavamo entrambe verso l'ingresso del bagno. Abel era già visibile quando ho fatto scivolare il piede giù e mi sono arrossito incredibilmente. «Wow, non posso lasciarvi sole nemmeno per un minuto». Lui rise, appoggiandosi alla porta e osservandoci. Alzai gli occhi al cielo, dato che chiaramente non stava guardando i nostri volti quando parlava. «Siamo solo entrate per un momento», dissi, voltandomi mentre ero ancora senza vestiti. Abel rise, allungò la mano e afferrò la mia, aiutando Amelia a alzarsi dalle ginocchia. «Andiamo, non potete lasciarci così», disse, «tirandoci fuori dal bagno e guidandoci verso la porta. Vogliamo vedere anche noi il divertimento. Voglio vederti con lei», quella voce nella mia testa di nuovo. Forse sarebbe stato meglio se fossimo tornate a farlo fuori, con gli altri ragazzi che osservavano, volendo mettermi in contese, escludere gli altri due, soprattutto Damian, dato che era la sua casa. Ci volle solo un momento per abituarsi alla vista della piscina. Il sole splendeva più luminoso che mai, irradiando i nostri corpi quando uscimmo. Aaron sembrò scioccato nel vederci così, mentre Damian rimase completamente indifferente, tranne per un piccolo sorriso che apparve sul suo volto. «Cosa stavate facendo voi due là dietro? Sembrate entrambi raggianti», commentò Damian. «Ho osservato attentamente e aveva assolutamente ragione. Amelia aveva fatto un ottimo lavoro. Ero così splendente sotto il sole che si è notato non appena ci siamo avvicinati». Damian si alzò dal suo posto e si avvicinò a noi, prendendo il posto di Abel e osservandoci con un sorriso. I suoi occhi brillavano di complicità quando si rese conto di quanto fossimo già coinvolti in quel gioco senza di lui. Mi preoccupai per un momento, temendo un'altra severa punizione da parte sua, ma lui si limitò a far scorrere le mani lungo le nostre schiene, guidandoci a stare in piedi l'uno di fronte all'altro. «Raccontaci com'è andata. Va bene?» Amelia mi guardò, sorrise, e poi si avvicinò a me, passando le mani sulle mie spalle prima di avvolgermi le braccia intorno al collo. Era delizioso sentire il suo corpo morbido premuto contro il mio, mentre accoglievo il suo bacio, rendendomi conto che potevo ancora assaporare il tenero bacio di un'altra donna, più dolce di quello di qualsiasi uomo. Quando il bacio finì, capii che Abel stava registrando di nuovo, probabilmente trasmettendo in diretta al suo pubblico. «Ora non ci stavamo esibendo solo davanti a tre uomini, ma a migliaia di altre persone. Oh, quindi ora sta filmando!» Amelia chiese con una risatina, dando un'occhiata a Dame che scrollò le spalle. «Aveva bisogno di qualcosa per tenere le mani occupate!» Damon sorrise mentre entrambi guardavamo Abel, che ci fece cenno di continuare. Amelia sembrava soddisfatta della risposta e ha dato spettacolo. Giocava magnificamente con me, ed era incredibile. «Liv, è ora che tu ti metta al lavoro!» interviene Aaron. Lo guardai con rabbia, sorpresa che anche il mio amante fosse coinvolto in questo gioco, mantenendo le distanze. Avrebbe potuto essere una principessa del cuscino, se ne avesse avuto l'opportunità. Pensava di essere intelligente, ma io sapevo esattamente cosa voleva vedere. Si allontanò da me. «Hai ragione», mi disse, raddrizzandosi. Mi prese per mano e mi condusse verso un obiettivo, dicendo «Ora è il tuo turno!». Ero nervoso, sentendo tutti gli sguardi maschili, sia qui che nel cyberspazio, pesare su di me come se fossi trasparente. Mentre la osservavo, i miei occhi erano fissi su di lei. Avevo assaporato il gusto solo io, quindi dovevo memorizzare ogni sfumatura, realizzando con cautela che, anche se era diversa da me, non era affatto male. In realtà, era piacevole conoscere ciò che mi piaceva. Senza trattenere nulla, mi misi all'opera. I suoi gemiti erano tanto belli quanto lei. All'inizio, fui delicato, non volendo esagerare. Sentii i ragazzi avvicinarsi e un leggero schiocco. Capivo che era Damian senza nemmeno guardare, troppo curioso per resistere. Mi fermai e guardai per vedere chi fosse. E con mia sorpresa, Damen mi fermò, in modo che Aaron potesse continuare. Abel si avvicinò ancora di più, desideroso di avere una vista migliore. Mi sentivo così esposto in quel momento che iniziai a desiderare un'altra sigaretta. Fortunatamente, riuscì a distrarmi con Amelia, che era vicina. Feci del mio meglio per non lasciarmi distrarre da nulla. Dopo aver finito, mi sentivo come se fossi avvolto dal suo profumo. Nonostante tutto, mi mancava ancora qualcosa. Senti Aaron allontanarsi da me e mi voltai per affrontare Dame. Vedo che ne hai bisogno, disse con un sorrisetto. Immagino che non dovrò portarti con me questa volta. Posso darti ciò che vuoi veramente, povera piccola creatura bisognosa. Sostenendomi con un braccio forte, uscì e vidi Aaron salire sul lettino accanto ad Amelia. Abel sembrava altrettanto felice di unirsi a noi e fotografarci tutti. «Oh cavolo!» esclamai, gettando la testa all'indietro, sopraffatto dall'emozione. La posizione si rivelò vantaggiosa, mentre lasciavo cadere tutto il mio peso su di lui. Ben presto, al mio grido si uni quello di Amelia, mentre Aaron intraprendeva azioni simili nell'osciallonge. Desideravo vedere di più, ma Dame riccedeva tutta la mia attenzione. Portai le mani sulle sue spalle per rassicurarmi e affondai le unghie nella sua maglietta. Damen ridacchiò piano. «Era tutto ciò di cui avevi bisogno, vero? Perfetto timing», tentai di rispondere, ma fui sopraffatta da momenti di piacere intenso. «Mi stai facendo impazzire, dannazione, Damen!» esclamai, soffocando nuovamente. Continuò con il suo epilogo di Dirty Deeds nei mesi successivi. La vita divenne un'altalena, con alti elettrizzanti seguiti da bassi. Non rallentò, ma divenne più rilassato man mano che ci abituavamo a una sorta di routine, se così si poteva chiamare. Le serate diventarono letteralmente un programma aperto a chiunque lo desiderasse. Suoni di piacere e ceghiavano in tutta la casa, seguiti da Grugniti e urla di ghioia. Damien ci teneva nella sua cassetta in piscina, mentre Aaron scersava dicendo che eravamo nel suo chicken coupé. Damien si comportava come una volpe che si presentava e mescolava le carte, portando a casa qualunque pollo desiderasse per la sera. Tutto ciò significava che non dovevamo tornare all'appartamento, a parte per prendere abiti puliti da sera e da gioco. Aaron non poteva resistere a lungo e usava queste occasioni come una vacanza, finché Abel iniziò a usarle per lo streaming. Solo quando il tempo cambiò un po', sentimmo il bisogno di vestirci. Le nostre vite cambiarono quando anche Abel e Amelia se ne andarono. Tutto andò a posto, anche se Abel continuava a trasmettere costantemente le nostre vite. Perché così tante persone mi guardano tagliarmi le unghie dei piedi quella notte? Non l'ho mai capito, forse perché non avevo mai parlato di streaming. Siamo tutti diventati abituati a esibirci davanti ad Abel e ai suoi migliaia di iscritti. Riconosciamo anche i contributori abituali alla sua chat. Ognuno di noi aveva i suoi preferiti. Io e Amelia facevamo a gara a chi avrebbe ottenuto più soldi. Aveva un vantaggio su di me, quindi poteva vincere con un ampio margine. Non era una festa tra ubriachi ogni sera, ma potevamo scegliere chi coccolare e baciare, e poi sdraiarci e passare la notte con Aaron. Volevo davvero stabilire un programma di lavoro. Si sedeva al computer ed Excel per ore, impostando chi era con chi e quando, ed era impressionante vederlo come un universo multicolore. Quindi non c'era possibilità di gelosia. Avevamo lo stesso tempo con tutti. Damon prese immediatamente il foglio e lo gettò da parte, accartocciando le ore di lavoro nel pugno in pochi secondi. Aaron era visibilmente turbato. Si decise che toccava a noi risolvere emotivamente chi era con chi e quando, no il computer. Per non parlare del fatto che anche Dame non era interessato a portare Dave a fare una passeghiatta ogni martedì sera. Portare il cagnolino a casa sua aveva richiesto molto tempo per convincerlo. L'uomo lo vedeva come un fastidioso abbaio ringhiante. Non poteva fare nulla. Ma convincendolo, riuscimmo a ottenere la sua benedizione e trasferimmo il nostro prezioso cucciolo in casa, sperando che Damien si affezionasse a lui. Noi quattro, insieme al nostro cane, vivevamo in una casetta con piscina in completa armonia. Ogni volta che poteva, Damien ci faceva grazia con la sua presenza. Non sapevamo mai dove fosse o quando, ma quando era qui, voleva che io, Amelia o entrambi fossimo con lui. Aaron e Abel potevano facilmente intrattenersi per l'intera serata. Non avevo preoccupazioni. Io e Aaron provavamo a continuare a lavorare, ma sentivamo che era giusto avere un po' di soldi nostri. Non era giusto che Abel e Damien ci finanziassero completamente. Quello che intendevo era che i soldi per le serate si esaurivano rapidamente, a meno che non si considerassero i 200 dollari di Abel ogni volta che uscivo con lui, situazione che si verificava quasi ogni mattina quando Aaron era al lavoro. Aaron non aveva bisogno di sapere che, non appena usciva per andare al lavoro, mi trasferivo nell'altra camera da letto, dove c'era anche Amelia, e mi coccolavo con lei. Secondo lui, lì era bello e accogliente. Ero certo che Aaron facesse lo stesso con Amelia nel pomeriggio. Sentivo che parte del contratto non scritto di vivere qui era essere disponibile per Damien a tutte le ore, giorno e notte. Non mi sono mai lamentato. Ovviamente mi stavo divertendo. E Damien mi offriva qualcosa che né Aaron né Abel potevano offrirmi. Erano entrambi speciali, ma, in un certo senso, ordinari. Tutti e tre gli uomini mi hanno offerto qualcosa di unico. Poi c'è stato il mio momento magico con Amelia. Era meravigliosa, dolce e bellissima, nonché follemente appassionata e amorevole. Capivo perché gli uomini la amassero, e lo facevo anch'io. La nostra intimità dipendeva dal nostro umore e dalla nostra energia. Non posso negare che a volte fosse difficile tornare insieme ad Aaron, soprattutto dopo essere stato con Amelia. Sì, ci conoscevamo a fondo, e baciarlo e amarlo mi sembrava naturale. Era il mio vero amante. Sapevo che stava facendo lo stesso per Amelia e Abel. Potevo dirgli di no? No, mi piaceva immaginare cosa Abel facesse con me, consapevole che la mattina dopo, quando sarei uscito in veranda, avrei potuto accendermi una sigaretta, soddisfare i miei polmoni e poi sorridere al ricordo del tempo trascorso con Abel, a volte nei fine settimana. Se mi fossi comportato bene, Damien avrebbe trascorso più tempo. Le conversazioni sul Giappone diventarono più frequenti, e progetti e idee venivano delineati senza sosta. Era un'opportunità entusiasmante, ma sapevo che, vivendo insieme, dovevamo essere pronti ad adattarsi agli imprevisti. Tutto si capovolse e il mio mondo fezzè un'altra capriola. Dal parlare del grande mondo selvaghiù a sentirsi molto piccolì, la mia vita passò da esistante e divina estremamente complicata in un attimo. Non c'era modo di evitarlo. Persino il mio ciclo arrivò molto in ritardo. Mi sentivo come se stessi vivendo il momento più bello della mia vita. Era come se non ci fosse un domani. Ero così abituato a che tutto funzionasse alla perfezione che potevo spiegare ad Aaron, perché dovevo stare con Damien in certi giorni, quando lui voleva esclusività. Non era esattamente lì, ma sapevo il motivo per cui forse avevo smesso di prendere la pillola, deliberatamente. Anche se per sbaglio, avevo smesso di assumerla con la regolarità necessaria. Sapevo che era completamente sbagliato e pericoloso, ma vivere una vita così, excitante come in quel momento mi serviva come scusa onesta per aver dimenticato le pillole nell'altra camera da letto. Ora le probabilità erano un uomo su tre, o potrebbe essere stato lo stress a farmi saltare l'inizio del ciclo. Non potevo osare dirlo a nessuno, nemmeno ad Aaron. Avrebbe rovinato il nostro nuovo, glorioso stile di vita, spensierato che avevamo coltivato. Avevo un lavoro interessante e ben pagato. A 25 anni mi resi conto che ero troppo giovane per essere madre. Avevo bisogno di parlare apertamente con Amelia. Lei avrebbe saputo cosa fare. Lasciandomi consumare internamente, le stelle finalmente si allinearono il venerdì sera successivo. I ragazzi andarono insieme al pub, passando la serata a giocare a biliardo e a bere birra. Per Abel era qualcosa di diverso. Avevo suggerito di offrire loro una serata tra uomini. Era giusto. Avevo promesso che più tardi ci saremmo goduti una birra, con uno o entrambi. Ma non pensavo fosse saggio bere troppo. Nel caso in cui ci fossimo sistemati sul divano, solo noi due. Anche lei stava bevendo succo d'arancia, sostenendo che era una serata disintossicante. La tv era accesa, ma nessuno di noi due la guardava. Sedevamo ai lati del divano, immersi nei nostri telefoni, mentre Dave russava sonoramente sul pavimento. Le nostre gambe e i nostri piedi erano delicatamente agrovigliati. Sembrava che questo stile di vita con vestiti opzionali avesse il suo senso. Un modo semplice di vivere che non causava problemi a nessuno di noi seduti qui. Con la coda dell'occhio vidi Amelia appoggiare il telefono sul bracciolo e tossire, cercando la mia attenzione. Ero pronto per un bacio, ma il primo pensiero che mi attraversò la mente quando udì il rumore fu che non avevo fumato da un po' e che avrei dovuto davvero uscire a fumarmi una sigaretta. Le sue emozioni cambiarono all'improvviso. Il suo viso divenne serio e severo, un'espressione che non mi aveva mai mostrato negli ultimi mesi spensierati. Poi, le sue emozioni si riversarono all'esterno rapidamente, come se si stessero accumulando dentro di lei fino a esplodere come un'eruzione vulcanica. «Sei in ritardo anche tu?» mi chiese. La fissai negli occhi, osservando il suo labbro inferiore e il suo mento tremare, mentre le lacrime iniziavano a formarsi nei suoi occhi. Non c'era altro da fare se non annuire in segno di consenso. Una lacrima mi colò lungo la guancia e una settimana di emozioni nascoste esplose con forza. Amelia aprì le braccia e mi baciò, accettando le mie lacrime salate. Mi accoglieva e, all'improvviso, non riuscivo a smettere di piangere quando mi strinse e mi abbracciò forte. Nemmeno lei poteva trattenersi e ci ritrovammo entrambe completamente sopraffatte, mentre l'acqua ci colava sulle facce. Se ci fossimo prese la briga di truccarci, sarebbe stato tutto rovinato in quel momento. Improvvisamente mi sentii più vicino a Amelia di quanto non fossi stato nelle dodici settimane intere in cui avevo vissuto in questo strano personaggio. Entrambe avevamo un problema elementare che aveva il potenziale per degenerare in una questione fondamentale e complessa. Quindi, davanti a una sigaretta tanto necessaria per calmarmi, abbiamo escogitato un piano. Ci vestimmo entrambe e, portando Dave con noi, camminammo lentamente, mano nella mano, lungo la strada fino al minimarket. Lì, facemmo a turno alla cassa per comprare i kit per i test di gravidanza. Sorridendo in segno di apprezzamento al ragazzo alla cassa, acquistammo entrambi i kit identici. Poi, tornammo lungo la strada, passando davanti a due pub in città, prima per far fare una bella passeggiata a Dave e poi, nel caso in cui i ragazzi uscissero, per fumare una sigaretta. Non avremmo mai potuto spiegare il motivo per cui eravamo fuori a quell'ora. Nessuno aveva mai portato fuori il cane. Mentre camminavamo al chiaro di luna, che ideammo la fase successiva del piano per comunicare discretamente ai ragazzi cosa stava succedendo. Aaron non è mai divertente, a meno che non sia ubriaco anch'io, ma dato che ero completamente sobrio e mi girava la testa, facevo del mio meglio per godermi il momento mentre lui era in cima e faceva le sue cose. Dopo dodici settimane di tentativi, finalmente ne vinse una partita a biliardo contro Abel. Stava festeggiando, meno felice del fatto che Abel avesse vinto tutte le altre partite. Fui sollevato quando finalmente si rotolò giù dal letto. I forti gemiti di Emily echeggiavano ancora attraverso le pareti sottili, mentre Abel indugiava. Lei si stava decisamente divertendo. Aveva sempre più resistenza di Aaron fino a raggiungere ciò che voleva. Avrei voluto che non ci fossimo scambiati di posto. Sono entrambi fantastici e ho amato ogni momento con ciascuno di loro. La sera, con le lacrime che ci rigavano il viso mentre camminavamo mano nella mano e rimettevamo il mondo a posto, abbiamo passato del tempo a cospirare saggiamente. Quindi, prima che gli uomini tornassero a casa, abbiamo concordato di alzarci presto, scivolare giù dal letto in silenzio, vestirci e andare in un bar locale per fare colazione, lasciando che i ragazzi gestissero i postumi di una sbornia senza di noi. Dave avrebbe ricordato loro di dargli da mangiare. Ci sedemmo uno di fronte all'altro, sorridendo e intrecciando le dita sul tavolo, stringendoci l'un l'altro per rassicurarci. Il sole splendeva attraverso la finestra, con i nostri pasticcini danesi e il caffè servito regolarmente. Era tranquillo, un flusso continuo di clienti e le loro cecchiere facevano a gara con il sibilò del baristasce e preparava i capuccini. La mattina si faceva più calda e il sole caldo splendeva attraverso le grandi finestre, illuminando il vapore che saliva dal caffè. Era bello uscire di casa, con entrambi i telefoni posati sul tavolo. Sedute al tavolo, tra risatine e sorrisi nervosi, ci scambiavamo sguardi prima di abbassare gli occhi sullo schermo nero del telefono, aspettando che vibrasse con un messaggio o una chiamata prevedibile. Dopotutto, sapevamo che il livello di stress nella pool house stava per salire. Avevo anche inviato un messaggio ad Amen, chiedendogli dolcemente di farci visita quella mattina, lasciando intendere che avevo davvero bisogno di lui. Sorrisi ad Amelia, sapendo che presto sarebbe stato con loro. Sul bancone della cucina, davanti alla caffettiera, dove Aaron era andato subito a risolvere i problemi dei postmi di una sbonia, c'erano quattro test di gravidanza disposti ordinatamente in fila. Non importava quale fosse il risultato. Era lo stesso per tutti. Abbiamo pensato che fosse saggio lasciare, che tutti e tre gli uomini lo scoprissero da soli. Non pensavamo fosse necessario dirglielo esplicitamente. Saremmo rimasti seduti al sole ancora per un po', godendoci il caffè decaffeinato e la reciproca compagnia. E poi avremmo aspettato la telefonata. Il primo a vibrare fu il mio cellulare, con un messaggio forte che faceva eco sul tavolo di Legno. Dove sei? Era il messaggio da Aaron. Ho mostrato lo schermo ad Amelia, che sorrideva nervosamente, incrociando le mani quasi in preghiera per una buona risposta. Mi strofinai le labbra in attesa, digitando la mia risposta. Prendo un caffè e una torta con Amelia. Spero che tu stia bene questa mattina. Avevo un po' i postumi. Per favore, torna a casa presto. Tamburellavo irrequieto con le dita sul tavolo, cercando ispirazione in Amelia. Lei lesse il messaggio. Poi guardò nella sua tazza di caffè incompiuta. Finiamo questo e poi torniamo a casa, disse con un sorriso caloroso. Saranno trenta minuti. Avevamo bisogno di tempo perché i ragazzi riflettessero bene. Questa è la fine della nostra storia. Mentre approfondiamo le complesse dinamiche delle loro relazioni, incontriamo temi di intimità, incertezza e desiderio. Spiegati più dettagliatamente nel nostro Patreon. In questo capitolo, Liv e Amelia affrontano le complessità delle loro relazioni non convenzionali con Damian, Aaron e Abel, navigando tra momenti di passione e rivelazioni inaspettate. Il loro viaggio li porta in luoghi emotivamente e fisicamente inaspettati. Al centro di questa narrazione c'è la tensione tra desiderio e responsabilità. Liv è combattuta tra il suo legame sempre più profondo con Amelia e il suo impegno verso Aaron mentre affronta le conseguenze delle sue azioni. Anche Amelia lotta con i propri desideri e le complessità della loro realtà condivisa. Mentre il capitolo si svolge, i personaggi si trovano ad affrontare l'inaspettata prospettiva di una gravidanza che getta un'ombra di incertezza sulle loro vite già complicate. In mezzo al caos devono affrontare le loro paure e insicurezze lottando con le conseguenze delle loro scelte. Ma nel mezzo dell'incertezza c'è Amelia. Trovano conforto nella reciproca compagnia, traendo forza dal loro legame mentre affrontano le sfide future e mentre attendono l'inevitabile confronto con i loro partner, trovano conforto nelle semplici gioie del cameratismo e della solidarietà. Riflettendo su questo capitolo ci viene ricordata la complessità delle relazioni umane e i molti modi in cui navighiamo nelle complessità dell'intimità, della responsabilità e del desiderio. Mentre i nostri personaggi affrontano l'incertezza del futuro, ci chiediamo cosa li attenda nei capitoli a venire. Ma una cosa è certa, il loro viaggio è lungi dall'essere finito e la strada davanti promette sia sfide che opportunità di crescita. Fino alla prossima volta, cari spettatori, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Così YouTube può consigliarvi nuove storie. PS. Sì, questo rappresenta la fine della storia e la sua logica conclusione. La storia sta già accadendo dietro le quinte e, molto probabilmente, non sapremo mai cosa è successo a queste coppie. Ciao a tutti, benvenuti nel canale confessioni interessanti. E sia, ma io sarò felice. Vediamo cosa succede quando Katy esce dal suo matrimonio e se impara la sua lezione. Cari ascoltatori, se vi piace il nostro lavoro, per favore commentate e condividete un mi piace. Sarà meraviglioso se premete anche il pulsante di iscrizione, poiché ci incoraggia a produrre contenuti di migliore qualità. Mi chiamo Ted e sono un uomo di 52 anni che vive a New York. Ho divorziato da mia moglie, Katy, che aveva 47 anni quando ci siamo separati. Siamo stati sposati per 20 anni. Abbiamo un figlio di nome Ron, che ha 19 anni e sta proseguendo i suoi studi in un'altra città. Gestisco una piccola impresa e guadagno abbastanza bene. Ho incontrato Katy in un bar di New York City quasi 25 anni fa. Fu un incontro casuale in una serata di venerdì. Ero fuori con alcuni amici a godermi qualche drink quando notai Katy dall'altra parte della stanza. Avevo una presenza magnetica che mi attirò e deciso di avviare una conversazione. Sì, siamo subito trovati bene. Parlammo per ore quella notte e fui catturato dalla sua intelligenza e argusia. Katy era uno spirito libero, pieno di energia ed entusiasmo per la vita. Iniziamo a frequentarci poco dopo quella notte al bar e il nostro legame si rafforzò giorno dopo giorno. Dopo alcuni anni di frequentazione, le proposi di sposarmi a Central Park sotto l'ombra di una bellissima quercia. E lei disse di sì. Ci sposammo in una piccola cerimonia intima, circondati dai nostri amici e familiari più stretti. Poiché la mia attività commerciale stava sempre andando bene, non ho mai avuto problemi finanziari. Vivendo a New York, ho sempre offerto a Katy uno stile di vita da Uber. La maggior parte delle amiche di Katy erano sposate con uomini ricchi. Vivevano una vita di lusso e di piacere, godendo dei vantaggi derivanti dalla ricchezza dei loro mariti. Molte di loro divorziarono entro pochi anni dal matrimonio e ricevettero un ingente alimenti mensili dai loro ex mariti. Ho sempre detto a Katy di stare alla larga dalle sue cosiddette amiche. Non mi sono mai piaciute. Odiavo i giorni in cui dovevo andare a prendere Katy dalle sue feste con le amiche. Ci furono volte in cui alcune di loro persino provarono a fare avances su di me. Non ho mai raccontato questi incidenti a Katy e li ho ignorati. Katy mi diceva sempre che le sue amiche non avrebbero mai influenzato il suo amore per me e la vita è continuata. Per il 40 cicunquisimo compleanno di Katy uscì con le sue amiche per festeggiare. Anche se volevo passare del tempo con lei, insistette sul fatto che una delle sue amiche stava per trasferirsi e voleva incontrarsi. Così la lasciai andare e trascorsi la serata da solo con il signor Jack Daniel. Katy è anche molto attiva su Instagram e TikTok. Era solita postare ogni giorno e le sue amiche la incitavano. Anche la celebrazione del suo compleanno fu trasmessa in diretta sul suo account. Quello che vidi fu qualcosa che mi disgustò. Le sue amiche portarono una torta con sopra un organo maschile, fatto sembrare come se avesse appena spruzzato della crema bianca. Katy procedette a mordere la torta e poi la tagliò. Tutte le sue amiche urlarono e ballarono. Vidianci c'è il loro gruppo andò in un locale di spogliarelli sti maschi. Che andò Katy tornò, la affrontai. Le disi ce le sue azioni erano indesenti e assolutamente volgari. Le disi ce ha un figlio di tese nuove anni, che ha visto tutto siò che è accaduto. Ciesi ancedella sua visita al locale di spogliarelli sti. Lei spiegò c'era stata una sorpresa delle sue amiche. Le dissi che la sorpresa era finita quando aveva raggiunto la porta di quel posto. Entrare era una scelta che aveva fatto. Le spiegai che non ero per nulla contento delle sue azioni e le dissi che tutte le sue amiche erano single e che le sue azioni non riflettevano quelle di una donna sposata. Iniziò a piangere e la lasciai sola. Quella notte non dormii con lei nella nostra camera da letto. La mattina seguente lei non mi parlò e se ne andò in palestra. Andai in ufficio e le cose non erano più le stesse di prima e stavano per peggiorare. Dopo due settimane le chiesi se mi stava portando rancore per quello che era successo il giorno del suo compleanno. Disse che avevo reagito, che ero geloso perché non ho amici e non potrò mai avere feste così incredibili nella mia vita. Rimasi scioccato. Come può qualcuno essere così stupido? Non vado nei locali di spogliarellisti perché ho una moglie e non mordo pene ripieni di crema perché lo trovo disgustoso. Terminai la conversazione e andai in ufficio. Le cose non migliorarono molto ma abbiamo ricominciato a parlare. Cathy ora era più attiva su TikTok e i suoi vlog giornalieri stavano ottenendo molta attenzione. Continuammo con le nostre vite e smiliano con mio figlio e Cathy che sebbene fosse con noi era più coinvolta con i suoi follower. Mio figlio era giustamente infastidito. Mi chiese cosa ci fosse di sbagliato in lei. Gli dissi che era stata punta dal bug dei social media. Abbiamo riso e basta. Sulla strada del ritorno parcheggiai la nostra auto sul lato dell'autostrada e le chiesi di scendere dalla macchina. Ero furioso e feci del mio meglio per controllare la mia rabbia. Lei scese e iniziò a filmare e condividere la vista. Presi il suo telefono, fermai la trasmissione e le chiesi educatamente di iniziare a tracciare un limite. E quando passi del tempo con la famiglia, stai con la famiglia. Altrimenti esci e non disprezzare le nostre emozioni in quel momento. Meritiamo il tuo tempo, non la tua telecamera. Lei rimase lì in silenzio e poi tornò in macchina. Non era nemmeno pronta per una conversazione. È passato un anno e ora era di nuovo il momento del suo compleanno. Le feci gli auguri a mezzanotte e le diedi un bel braccialetto d'oro incastonato di diamanti. Mi baciò e pochi minuti dopo si preparò e uscì con le sue amiche. Ero furioso. Quando tornò, le chiesi se io significassi ancora qualcosa nella sua vita. Era ubriaca e semplicemente non mi aspettavo una risposta intelligente da parte sua. Il mattino seguente le chiesi se volesse andare in terapia con me, perché non sento che la nostra relazione sopravviverà se continua così. Lei semplicemente si affrettò con il suo succo e partì per la palestra. Quel giorno non andai in ufficio perché volevo avere questa conversazione. Tornò a casa con le sue amiche. Le chiesi se potesse venire in camera da letto perché dovevamo parlare. La scena era un po' imbarazzante, ma dovevo farlo. Le chiesi chiaramente cosa volesse e se desiderasse davvero investire nella nostra relazione. Cathy si sedette e disse che stava pensando di divorziare da me da due anni e che pensa di essere a un punto della sua vita in cui vuole ricominciare tutto da capo. Non capivo. Le chiesi cosa intendesse. Spiegò che ora vuole uscire e vivere una nuova vita e che le sue amiche la stanno aiutando in questo. Ero furioso e urlai. Le tue amiche sono tutte vecchie streghe che si approfittano degli uomini ricchi per i loro soldi. Non hanno una vita e tutto ciò che vedi è il luccichio che applicano sui loro volti. Guarda più a fondo nelle loro vite. Sono tutte sole e depresse sotto quel sorriso che ti mostrano. Ma ricorda che il mondo là fuori non è tutto rose e fiori. Ci sono lupi che prederanno donne come te e in poco tempo ti useranno e ti lasceranno. E allora? Non verrò a cercarti per compassione. Troverai solo lupi e iene e si nutriranno del tuo corpo. E sia, ma io sarò felice. La stanza divenne silenziosa. Non c'era più bisogno di parole. Nessuna discussione ulteriore. Un giorno dopo, Kathy pubblicò un video in cui dichiarava che stava pianificando il suo divorzio da due anni e che ora finalmente stava ottenendo ciò che voleva. disse. Sono solo onesta perché non so cosa fare dopo. Sono solo stanca, quindi mi sto divorziando. Ho provato a cambiare così tante cose della mia vita. Ho un po' paura. Anche molta paura. Ora hai i piedi freddi. È solo l'inizio. La realtà sta arrivando a tutta forza e colpirà duro. Mi ha chiamato più volte. Ho risposto. E lei ha detto che voleva solo parlare con me perché mi sentiva la mancanza. Ho provato un'ultima volta e ho chiesto se volesse riconsiderare la sua decisione, poiché domani i documenti sarebbero stati depositati in tribunale e da lì non ci sarebbe stato più ritorno. Lei riattaccò. Divorziamo qualche settimana dopo. Kathy si trasferì e non ci scambiamo mai un addio. Mio figlio la prese un po' male, ma disse che se lo aspettava. Un giorno dopo il mio divorzio, Kathy postò. Sto bene. Una settimana fa non vedevo alcuna luce davanti a me. Il tempo è passato e ci sono stati come piccoli sprazzi di luce davanti. Come se avessi della carta stagnola e poi prendessi dei stuzzicadenti. Piccoli sprazzi di luce che passano attraverso. Non abbastanza per vedere cosa c'è dall'altra parte, ma abbastanza per farti sapere che là c'è luce. Anche nei giorni peggiori, sono andata a letto sapendo che ero più vicina a quella luce. Guarderò indietro a questo momento e dirò che non mi sono congelata. Sono andata avanti. Sono capace. Posso farlo. Buona fortuna a bucare le vostre stagnole. Qualche giorno dopo postò. Suggerisco di fare un po' più di ricerca su perché così tante donne stanno realizzando. Oh, non abbiamo bisogno degli uomini. Non devo sopportare più abusi o infedeltà. Non devo. Non ho nemmeno bisogno di un uomo per avere un bambino. Non significa che non voglio un uomo nella mia vita. Non significa che penso che tutti gli uomini siano cattivi. Ecco il Newman della mia vita. Prosegue introducendo un ragazzo sui 20 anni. Bello, con addominali scolpiti e un buon uso dei miei soldi. Sono partito per il mio ufficio sapendo che non sarebbe finita bene. Il giorno dopo ho visto un altro video in cui Katie piangeva dicendo che aveva lasciato l'ultimo ragazzo. Beh, sapevo che non sarebbe durato, ma è stato veloce. Sembra che il ragazzo si sia semplicemente svegliato e sia andato via. Un amico comune mi ha detto che Katie non ha lasciato quel ragazzo. È stata lasciata. Katie era troppo vergognata per condividerlo in video. Non molto tempo dopo quell'incidente fu vista con un altro giovane in un ristorante. Mi trovavo lì per una riunione e sono partito rapidamente una volta finita. Katie non mi ha visto. Vederla con un altro uomo era un po' imbarazzante, ma questa volta non mi ha fatto male e non provavo alcun sentimento. Un mio amico mi ha condiviso un video. Il video intitolato 40 e birichina. Era Katie che ballava in lingerie e si spingeva fino a togliersi il top. Le sue amiche erano viste fare il tifo per lei. Sembra che fosse da una festa privata a casa di qualcuno. Ho bloccato il mio amico. Qualche giorno dopo, su TikTok, ho visto Katie vicino a una piscina in bichini e mostrava il suo corpo dicendo «Ecco come appare una donna di 47 anni». Beh, questo è un nuovo minimo. Ha condiviso anche il suo ID di Tinder. Ho cliccato sul link al suo ID e l'ho vista di nuovo. Era quasi nuda, tranne per qualche pezzo di stoffa a coprire l'ovvio. Mentre Katie postava un altro video in cui era fuori con un altro giovane ragazzo. Si poteva capire che il ragazzo non era felice di essere visto nel video. Immediatamente si alzava il cappuccio non appena entrava nell'inquadratura. Questo era un segno chiaro. Era lì solo per un po' di divertimento gratuito. Scapperà non appena avrà finito. Qualche giorno dopo, Katie ha postato un altro video in cui dichiarava «Ho preso una decisione e me ne pentò? Non lo so. Ho fatto un pasticcio? Non lo so. Credo non sia stato così male. Ma oggi penso che il mio matrimonio non fosse male. Andava bene. Mio marito mi amava e ho rovinato tutto. Sono un disastro e Ted mi aveva avvertito. Non ho ascoltato. Voglio solo tornare alla mia vecchia vita. Ho perso mio marito. I miei amici non sono più con me. Voglio solo tornare dalla mia famiglia. Beh, sei stato avvertito, ma non hai ascoltato. Quindi, ora che Chad e Tyrone hanno finito la loro sessione di uso e abbandono, le chiesi se volesse andare in terapia con me. Perché non sento che la nostra relazione sopravviverà se continua così. Lei semplicemente si affrettò con il suo succo e partì per la palestra. Quel giorno non andai in ufficio perché volevo avere questa conversazione. Tornò a casa con le sue amiche. Le chiesi se potesse venire in camera da letto perché dovevamo parlare. La scena era un po' imbarazzante. Ma dovevo farlo. Le chiesi chiaramente cosa volesse e se desiderasse davvero investire nella nostra relazione. Cathy si sedette e disse che stava pensando di divorziare da me da due anni e che pensa di essere a un punto della sua vita in cui vuole ricominciare tutto da capo. Non capivo. Le chiesi cosa intendesse. Spiegò che ora vuole uscire e vivere una nuova vita e che le sue amiche la stanno aiutando in questo. Ero furioso e urlai. Le tue amiche sono tutte vecchie streghe che si approfittano degli uomini ricchi per i loro soldi. Non hanno una vita e tutto ciò che vedi è il luccichio che applicano sui loro volti. Guarda più a fondo nelle loro vite. Sono tutte sole e depresse sotto quel sorriso che ti mostrano. Vuoi uscire? Bene, esci. Ma ricorda che il mondo là fuori non è tutto rose e fiori. Ci sono lupi che prederanno donne come te e in poco tempo ti useranno e ti lasceranno. E allora? Non verrò a cercarti per compassione. Troverai solo lupi e iene e si nutriranno del tuo corpo. E sia. Ma io sarò felice. La stanza divenne silenziosa. Non c'era più bisogno di parole. Nessuna discussione ulteriore. Un giorno dopo Katie pubblicò un video in cui dichiarava che stava pianificando il suo divorzio da due anni e che ora, finalmente, stava ottenendo ciò che voleva. Disse. Sono solo onesta perché non so cosa fare dopo. Sono solo stanca, quindi mi sto divorziando. Ho provato a cambiare così tante cose della mia vita. Ho un po' paura. Anche molta paura. Ora hai i piedi freddi. È solo l'inizio. La realtà sta arrivando a tutta forza e colpirà duro. Mi ha chiamato più volte. Ho risposto e lei ha detto che voleva solo parlare con me perché mi sentiva la mancanza. Ho provato un'ultima volta e ho chiesto se volesse riconsiderare la sua decisione poiché domani i documenti sarebbero stati depositati in tribunale e da lì non ci sarebbe stato più ritorno. Lei riattaccò. Divorziamo qualche settimana dopo. Katie si trasferì e non ci scambiamo mai un addio. Mio figlio la prese un po' male ma disse che Katie postò. Sto bene. Una settimana fa non vedevo alcuna luce davanti a me. Il tempo è passato e ci sono stati come piccoli sprazzi di luce davanti. Come se avessi della carta stagnola e poi prendessi dei stuzzicadenti. Piccoli sprazzi di luce che passano attraverso. Non abbastanza per vedere cosa c'è dall'altra parte ma abbastanza per farti sapere che là c'è luce. Anche nei giorni peggiori sono andata a letto sapendo che ero più vicina a quella luce. Guarderò indietro a questo momento e dirò che non mi sono congelata. Sono andata avanti. Sono capace. Posso farlo. Buona fortuna a bucare le vostre stagnole. Qualche giorno dopo postò. Suggerisco di fare un po' più di ricerca su perché così tante donne stanno realizzando. Oh non abbiamo bisogno degli uomini. Non devo sopportare più abusi o infedeltà. Non devo. Non ho nemmeno bisogno di un uomo per avere un bambino. Non significa che non voglio un uomo nella mia vita. Non significa che penso che tutti gli uomini siano cattivi. Ecco il Newman della mia vita. Prosegue introducendo un ragazzo sui vent'anni. Bello. Con addominali scolpiti e un corpo cesellato. Beh questo è un buon uso dei miei soldi. Sono partito per il mio ufficio sapendo che non sarebbe finita bene. Il giorno dopo ho visto un altro video in cui Katie piangeva dicendo che aveva lasciato l'ultimo ragazzo. Beh sapevo che non sarebbe durato ma è stato veloce. Sembra che il ragazzo si sia semplicemente svegliato e sia andato via. Un amico comune mi ha detto che Katie non ha lasciato quel ragazzo. È stata lasciata. Katie era troppo vergognata per condividerlo in video. Non molto tempo dopo quell'incidente fu vista con un altro giovane in un ristorante. Mi trovavo lì per una riunione e sono partito rapidamente una volta finita. Katie non mi ha visto. Vederla con un altro uomo era un po' imbarazzante ma questa volta non mi ha fatto male e non provavo alcun sentimento. Un mio amico mi ha condiviso un video. Il video intitolato 40 e birricina. Era Katie che ballava in lingerie e si spingeva fino a togliersi il top. Le sue amiche erano viste fare il tifo per lei. Sembra che fosse da una festa privata a casa di qualcuno. Ho bloccato il mio amico. Qualche giorno dopo su TikTok ho visto Katie vicino a una piscina in bikini e mostrava il suo corpo dicendo ecco come appare una donna di 47 anni. Beh questo è un nuovo minimo. Ha condiviso anche il suo ID di Tinder. Ho cliccato sul link al suo ID era quasi nuda e l'ho vista tranne per qualche pezzo di stoffa a coprire l'ovvio. Mentre Katie postava un altro video in cui era fuori con un altro giovane ragazzo. Si poteva capire che il ragazzo non era felice di essere visto nel video. Immediatamente si alzava il cappuccio non appena entrava nell'inquadratura. Questo era un segno chiaro. Era lì solo per un po' di divertimento gratuito. Scapperà non appena avrà finito. Qualche giorno dopo Katie ha postato un altro video in cui dichiarava ho preso una decisione e me ne pento? Non lo so. Ho fatto un pasticcio. Non lo so. Credo non sia stato così male ma oggi penso che il mio matrimonio non fosse male. Andava bene. Mio marito mi amava e ho rovinato tutto. Sono un disastro e Ted mi aveva avvertito. Non ho ascoltato. Voglio solo tornare alla mia vecchia vita. Ho perso mio marito. I miei amici non sono più con me. Voglio solo tornare dalla mia famiglia. Beh sei stato avvertito ma non hai ascoltato. Quindi ora che Chad e Tiron hanno finito la loro sessione di uso e abbandono vuoi tornare? Assolutamente no. Non mangio avanzi. Ero in ufficio quando Katie è entrata. Le ho chiesto del motivo della sua presenza improvvisa e ha detto che vuole tornare a casa. Ho riso sotto i baffi e ho detto casa. Non c'è casa. Ho venduto la nostra casa e ho pagato per il tuo nuovo pad nirvana. Come lo chiami tu. Quindi non c'è casa. Ha chiesto se può venire a vivere con me. Le ho detto che condivido il mio letto con un gigantesco San Bernardo fedele e a lui non piacciono gli estranei vicino a me. Lei ha detto che non è un'estranea. Sì Katie per quel cane sei un'estranea. e non c'è posto nella mia vita per te. Il mio nome non è Will Smith e tu non sei una sfumatura di Pinkett Smith. Se mia moglie sceglie qualcosa di diverso da me è finita. Per lei sono fuori portata. Non mi siedo a fare la faccia da piagnucolone. Lo prendo sul mento e vado avanti. Katie se n'è andata piangendo e io sono tornato a casa dal mio cane. Ho visto un post di Katie intitolato Ho bisogno di più. In cui parlava dell'illusione che aveva del mondo e di quanto è difficile per una donna della sua età trovare di nuovo l'amore. Sì Katie. Eri stata avvertita su tutto. Non si inizia a uscire a 47 anni. Un frutto si mangia quando è maturo. Se ritardi a mangiarlo va a male e marcisce. La natura ci dà lezioni per la nostra vita. Scegliamo di ignorarle. Avevi tutto ciò che cercavi. Qualcosa che era fuori dai limiti per una donna sposata. Potrei non sposarmi di nuovo visto che sono nei 50 e non vedo davvero alcun motivo per cercare di trovare l'amore. Il mio cane mi dà abbastanza amore. Trasferirò i miei beni a mio figlio non appena sarà pronto a prendere il mio posto in ufficio. Sono felice di uscire e assorbire un po' di sole nel bosco. Caro ascoltatore, se sei arrivato fin qui, per favore clicca sul pulsante di iscrizione. Sarà di grande aiuto. Svela il tradimento di una moglie di quasi 30 anni, colta in flagrante in un ristorante. Sì, è vero. Mia moglie mi tradiva in un locale di un amico. Con lui, a 51 anni, mi sono trovato a fare i conti con l'infedeltà della mia compagna di 47 anni. I nostri figli, ormai adulti con famiglie proprie, ci avevano lasciato in questa fase della vita, dove l'inaspettato è diventato la mia realtà. L'uomo scelto per l'inganno è un ristoratore di successo, una figura che una volta è stata come un secondo padre per i miei figli in mia assenza. In un giorno che sosteneva, fosse dedicato al lavoro, un collega, a lei sconosciuto, ha inviato un messaggio allarmante che suggeriva il suo flirt intenso con un altro uomo. Questo collega, avendo visto solo una sua fotografia, si è imbattuto accidentalmente in loro nello stesso ristorante e ha immortalato il momento. Nonostante i suoi presunti impegni di lavoro, eccola lì a condividere risate e sussurri con il mio amico. Inizialmente ho liquidato il tutto come semplice chiacchierata amichevole, senza attribuire malizia alla loro interazione a causa della nostra amicizia familiare di lunga data. Tuttavia, il mio ritorno a casa da un viaggio di lavoro, inteso come una sorpresa per portare mia moglie a pranzo, si è svolto secondo una narrazione diversa. Le sue solite verifiche erano assenti quel giorno. Mentre mi avvicinavo a casa nostra verso le 11.30, le risate risuonavano attraverso la porta, raffreddando l'anticipazione calda della mia sorpresa. La vista di mia moglie e amico in un momento non destinato ai miei occhi ha suscitato disagio, la loro prossimità inquietante nonostante l'ora. Le domande sulla sua presenza sono state accolte con spiegazioni casuali. Che suo marito aveva insistito sul fatto che non c'era nulla tra lui e mia moglie. Tuttavia, non potevo credere alle sue parole. La moglie aveva già seminato il dubbio nella mia mente, suggerendo che potesse esserci qualcosa tra mia moglie e suo marito. Così, nei giorni successivi, ho notato un cambiamento nel comportamento di mia moglie, che sembrava diventare sempre più distante, un chiaro segnale d'allarme per me. Pertanto, decisi di installare un GPS sulla sua auto, nella speranza di trovare un po' di pace interiore. Passarono alcuni giorni e notai che l'auto di mia moglie non si spostava. Era parcheggiata e erano le otto di sera. Così, mi avvicinai per vedere cosa stesse facendo. La trovai a parlare al telefono in modo sospetto. Quando le chiesi con chi stesse parlando, rispose un amico. Poi corresse in un'amica. In quel momento, il suo comportamento al telefono mi sembrò molto sospetto. Poco dopo che rientrò in casa, controllai l'app del GPS e vidi che aveva seguito il solito percorso casa-lavoro e ritorno, senza deviazioni. Riflettendo sull'accaduto, ho pensato che se fosse stata davvero al telefono con un'amica, avrebbe potuto uscire e fare qualcosa. Ma non l'ha fatto. Il giorno dopo, lo scenario si è ripetuto. È andata al lavoro ed è tornata senza fermarsi. Qualche giorno dopo, tornando a casa presto dal lavoro, ho notato che l'auto di mia moglie non era parcheggiata al solito posto. Erano circa le tre del pomeriggio. Ho deciso di controllare di nuovo l'app di localizzazione che mostrava la sua auto parcheggiata al ristorante. Mi sono recato sul posto, solo per osservare dall'esterno. Passando davanti al ristorante, ho visto l'auto di mia moglie e lei seduta al tavolo, mano nella mano con il nostro buon amico. Ero incredulo e furioso, desideroso di affrontarla immediatamente, ma mi trattenni. Tornai a casa e aspettai il suo ritorno, che avvenne verso le nove di sera. Le chiesi dove fosse stata e mi rispose che era stata al lavoro. In quel momento ho capito che stava mentendo. Poi le ho chiesto come fosse stata la sua giornata e mi ha risposto che era stata buona. Dopo questa breve conversazione, decisi di assumere un investigatore privato per saperne di più sulla situazione. Il giorno successivo ho incontrato l'investigatore privato e gli ho espresso le mie preoccupazioni. Nonostante il costo elevato, ero deciso ad andare avanti. Una volta assunto l'investigatore, ho iniziato a considerare i beni condivisi, come la casa e le auto, e a considerare le potenziali ripercussioni. Più tardi, chiamai mio figlio e mia figlia, urgendo un incontro per discutere della situazione. La rivelazione li turbò profondamente. Mia figlia scoppiò in lacrime, mentre mio figlio, con sorpresa, mi chiese conferma della situazione. Rivelai di aver assunto un investigatore privato e che avremmo dovuto attendere i risultati. Mia figlia, di 23 anni, e mio figlio, di 21, promisero di rimanere vigili. Pochi giorni dopo, l'investigatore mi contattò con notizie sconfortanti. Aveva seguito mia moglie e l'aveva vista incontrarsi con il nostro amico in un hotel, con prove video del loro ingresso tenendosi per mano e baciandosi. La rabbia mi travolse, ma sapevo di dover agire con calma e ponderazione. Il giorno seguente, contattai la moglie del nostro amico, che confermò l'assenza del marito. Dopo averle rivelato la mia scoperta e le prove in mio possesso, convocai nuovamente i miei figli. In un parco locale, mostrai loro le prove raccolte dall'investigatore, suscitando lacrime e incredulità. Mio figlio non riusciva a credere a ciò che vedeva, mentre mia figlia ammise di aver sospettato qualcosa. Di fronte alla decisione su come procedere, mio figlio insistette per un confronto diretto, mentre mia figlia suggerì di non intervenire, permettendo che la relazione proseguisse per rafforzare le basi di un eventuale divorzio. Sorpreso dalla loro reazione, cercavo di comprendere il desiderio di mia figlia di consolidare ulteriormente le prove contro la madre. Mio figlio concordò, suggerendo di raccogliere più evidenze prima di avviare le pratiche di divorzio. La loro posizione mi ha spiazzato, avevo immaginato, che avrebbero preferito che nostra madre chiudesse la relazione e cercasse una soluzione. Invece, entrambi hanno ritenuto il tradimento troppo grave per essere perdonato, mostrando un desiderio unanime di vedere nostra madre affrontare le conseguenze delle sue azioni. Hanno segnato il tradimento non solo con le parole, ma anche con atti concreti, in hotel e in piscina. Questa rivelazione ha aperto una strada di rovina e inganno, mettendo a nudo un comportamento egoista e traditore che ha minato le fondamenta stesse della nostra famiglia. I miei figli hanno espresso disprezzo per l'azione, considerandola un atto di puro egoismo. Dopo aver riflettuto sulle loro parole, ho deciso di procedere con cautela, ascoltando il consiglio di raccogliere ulteriori prove. L'investigatore privato è riuscito a fornire immagini compromettenti che hanno catturato momenti di intimità inequivocabili. Consegnando il materiale al mio avvocato, Egidio, ho pensato alla mossa successiva senza fretta, cercando di preservare ogni aspetto legale a mio favore. Sebbene il New Hampshire consideri l'infedeltà un fattore influente nel divorzio, era imperativo procedere con prudenza per salvaguardare i miei interessi e quelli dei miei figli. Così, sotto il velo di una finta partecipazione a una conferenza, ho messo in moto i meccanismi legali per porre fine a un matrimonio ormai infranto. Al ritorno di mia moglie, l'atmosfera in casa era palpabilmente tesa. La sua inconsapevole allegria si è scontrata con lo sguardo glaciale dei nostri figli e il mio. L'ho invitata a sedersi, un gesto preludio alla rivelazione che avrebbe cambiato per sempre il corso delle nostre vite. Le ho comunicato la mia decisione di divorziare, motivata dal tradimento che aveva tessuto nel segreto delle sue azioni. Le immagini mostrate sul mio laptop sono state il colpo finale, la prova inconfutabile del suo doppio gioco. La realtà del suo inganno, manifestato attraverso quelle immagini, ha segnato il punto di non ritorno, spingendomi a cercare la giustizia e la pace attraverso il divorzio, armato delle prove necessarie a difendere la mia posizione e quella dei miei figli nel tumulto che ne sarebbe seguito. Alla visione delle immagini incriminanti, mia moglie non seppe trovare parole, abbassando lo sguardo verso il pavimento, il viso segnato dalla vergogna. Le comunicai la mia decisione di vendere la casa entro il mese successivo e le chiesi di andarsene. Quando protestò, affermando di non avere un luogo dove andare, nostro figlio interviene freddamente, suggerendole ironicamente di cercare ospitalità presso l'amico traditore. Quella notte lasciò la nostra casa, ritornando solo sporadicamente per raccogliere i suoi effetti personali. I nostri figli rifiutarono ogni contatto, profondamente disgustati dal suo comportamento. Nei mesi a seguire vendemmo la casa e attesi la finalizzazione del divorzio prima di cercare una nuova abitazione. Nel frattempo mi trasferì temporaneamente dalla mia figlia. Durante l'udienza per il divorzio, mia ex moglie non presentò resistenza. Le prove raccolte dall'investigatore privato furono schiaccianti e, di conseguenza, non ottenne alcun beneficio economico significativo dalla divisione dei beni. Dopo il divorzio, acquistai un'altra casa con l'aiuto dei miei figli, che mi supportarono nel trasloco. Non abbiamo più avuto contatti con l'uomo che consideravamo un amico, il quale affrontò a sua volta un divorzio e fu obbligato al pagamento di un assegno di mantenimento. La resilienza e il sostegno dei miei figli furono fondamentali in questo doloroso processo. Sono stati il mio faro di forza e non potrei essere più orgoglioso di loro. Questo tragico capitolo della mia vita mi ha insegnato il valore della famiglia, del perdono e della rinascita. Ringrazio tutti coloro che mi hanno supportato con consigli e parole di conforto. E per chi sta leggendo questa storia, spero possiate trarre insegnamenti, influenzata dal tradimento, si concluse con mia moglie che ricevette solo il 30% dei proventi, una conseguenza delle sue azioni. Grazie ancora a tutti per il sostegno. La vostra empatia mi ha offerto una nuova prospettiva sulla vita. Mia moglie e mia figlia mi hanno abbandonato mentre ero ammalato. Anni dopo sono tornate a reclamare la mia casa, ma lasciatemi cominciare dall'inizio. Innanzitutto mi fu diagnosticato un linfoma di Hodgkin all'ultimo stadio, il che fu uno shock. Ero sempre stato attivo, mangiavo bene e mi sottoponevo diligentemente ai controlli annuali. L'oncologo mi informò che le cause esatte del cancro erano ancora incerte, ma che c'era una piccola possibilità di sopravvivenza con la chemioterapia. Ero determinato a lottare per la mia vita. Dopo aver ricevuto la diagnosi, chiamai mia moglie, Simona, e la nostra figlia adolescente, Stefania, per dare loro la notizia. Erano sconvolte, ma le rassicurai che avrei fatto del mio meglio per sconfiggere la malattia. Tuttavia, non potevo fare a meno di preoccuparmi di come la cosa avrebbe influito sulle nostre dinamiche familiari. Il medico mi aveva avvertito che la chemioterapia sarebbe stata debilitante e che molti matrimoni non sopravvivevano. Espressi le mie preoccupazioni a mia moglie, lei mi assicurò che sarebbe stata al mio fianco durante la malattia e che avrebbe fatto tutto il possibile per sostenermi. Eravamo finanziariamente stabili, grazie a una buona assicurazione, a notevoli risparmi e a un fondo fiduciario del mio defunto nonno. La nostra casa era completamente pagata e avevo messo da parte i soldi per l'istruzione universitaria di Stefania, nel caso mi fosse successo qualcosa. Una settimana dopo, iniziai la chemioterapia, che fu incredibilmente faticosa. Tornavo a casa completamente svuotato, come se fossi stato investito da un treno. Riuscivo a malapena a nutrirmi, per non parlare delle attività di base, come fare il bagno o camminare. Mia moglie e mia figlia si fecero avanti per aiutarmi, occupandosi dei pasti, delle faccende domestiche e accompagnandomi agli appuntamenti per la chemio. Feci quello che potevo quando ne avevo la forza. Questo andò avanti per due mesi estenuanti. Tuttavia, cominciai a notare segni di agitazione da parte loro. C'era una crescente riluttanza ogni volta che chiedevo il loro aiuto. Persino mia figlia smise di rispondere, quando le chiesi qualcosa di semplice, come un bicchiere d'acqua. Le cose raggiunsero un punto di rottura quando un giorno avevo un appuntamento anticipato per la chemio. Mi resi conto che ero in ritardo e che mia moglie non era ancora uscita dalla nostra stanza. La chiamai e lei mi disse di prendere un Uber per l'ospedale perché era stanca. Ero scioccato dalla sua risposta, ma non sapendo cos'altro fare, chiamai un Uber e ho anche contattato l'ospedale per chiedere assistenza, visto che mia moglie non sarebbe stata lì a sostenermi. Fortunatamente l'autista fu incredibilmente gentile e si offrì anche di riaccompagnarmi a casa dopo il trattamento. Quando tornai a casa quel giorno, la situazione aveva preso una piega preoccupante. Dopo qualche ora di riposo, trovai il coraggio di affrontare mia moglie e mia figlia, che erano sempre più fredde. Chiesi loro se si sentissero come se fossi diventato un peso per loro. Mia moglie ammise che si sentivano oppresse. Mia figlia disse timidamente che non si aspettava che fossi così bisognoso ed esigente da malato. Decisi che era giunto il momento di discutere le possibili soluzioni. Suggerì di assumere un'infermiera che potesse venire qualche giorno alla settimana per assistere nelle attività quotidiane e accompagnarmi alle sedute più semplici. Ordinai una sedia a rotelle, prevedendo che ci sarebbero stati giorni in cui sarei stato troppo debole per camminare. Con mio grande sollievo hanno accettato la proposta. Ho contattato l'ospedale per chiedere consigli e mi hanno mandato un'infermiera dolce, che si assicurò che non perdessi mai un appuntamento per la chemio, che ricevessi farmaci in tempo e che elaborasse un piano di cura completo che includeva pasti sani. Tutto sembrava migliorare e i medici erano soddisfatti dei miei progressi. Tuttavia, nonostante i miei sforzi, mia moglie e mia figlia non sembravano ancora soddisfatte. Mia moglie, in particolare, cominciò a pensare che l'infermiera la stesse sostituendo. Le dissi che, se fosse stata disposta ad assumersi le responsabilità, avremmo potuto licenziare l'infermiera. Lei mi chiese se potevamo trovare un infermiere maschio, ma le spiegai che non ce n'erano nell'elenco consigliato dall'ospedale. L'infermiera che avevamo avuto era stata scelta per la sua esperienza con i pazienti oncologici e per la sua comprensione delle mie esigenze specifiche. Era meticolosa, attenta e molto rispettosa nei confronti di mia moglie e di mia figlia. Disse chiaramente che l'infermiera sarebbe stata sostituita solo se loro fossero state disposte ad assumere le proprie responsabilità. Mia moglie non ne fu contenta e replicò che avrei dovuto fare di più per me stesso invece di rendere la mia condizione un problema degli altri. Cerciai di farla ragionare, spiegandole che c'erano giorni in cui riuscivo a malapena a sollevare la testa. Figuriamoci a stare in piedi. La chemioterapia aveva avuto un forte impatto sul mio corpo. In un impeto di rabbia si precipitò al piano di sopra e cominciò a sbattere le porte. Scelsi di ignorare i suoi capricci, rendendomi conto che la sua negatività avrebbe solo ostacolato la mia guarigione. Mi concentrai sulla mia salute e sul mio benessere. Più tardi, quella sera, ricevetti una telefonata da mia suocera, che viveva altrove. Mi espresse il suo disappunto per il fatto che avessi portato un'altra donna a casa di sua figlia. Tecnicamente la casa era, a mio nome da prima del nostro matrimonio, ma le spiegai gentilmente ci avevo bisogno di aiuto e che il livello di assistenza che richiedevo superava quello che sua figlia era disposta a darmi. Sottolineai che la presenza dell'infermiera sarebbe stata solo temporanea per la durata del mese di chemioterapia che mi maniva. Non sembrava del tutto convinta, ma alla fine mi lasciò in pace. Per circa una settimana dopo quella conversazione, la situazione sembrò relativamente normale. Il mio trattamento continuò a procedere senza intoppi. Poi, un giorno fatidico, dopo essere tornato da una seduta di chemioterapia, trovai un camion dei trasloci parcheggiato davanti a casa mia. Mia moglie e mia figlia avevano impacchettato tutte le loro cose e mi avevano informato che sarebbero andate a stare a casa della madre. Ero sconvolto, ma la stanchezza mi impediva di esprimere adeguatamente i miei sentimenti. Mi rivolsi a mia figlia e le chiesi se era questo che voleva veramente. Dopotutto, era abbastanza grande per prendere le sue decisioni. La sua risposta mi colpì duramente. Mi disse che avrebbe preferito vivere con sua madre perché trovava troppo difficile vivere con me. Mio fratello intervenne con la soluzione. Notò che quel giorno l'infermiera aveva trascorso un po' di tempo in più con me e mi chiese se avessi qualche familiare nelle vicinanze che potesse aiutarmi. Lui viveva a tre ore di distanza e aveva due figli piccoli, ma si offrì generosamente di prendersi una pausa dal lavoro per stare con me finché non avessi trovato una sistemazione più duratura. Quando arrivò, era furioso per quello che aveva fatto mia moglie. Quella donna egoista e ingrata mi fece notare che lei non aveva mai dovuto lavorare da quando ci eravamo sposati e che io avevo sempre fatto in modo che non le mancasse nulla. La sorella di sua moglie, Cecilia, stava affrontando un divorzio doloroso e aveva bisogno di un posto sicuro dove stare temporaneamente. Inoltre, non aveva molti soldi e studiava radiologia in un'università vicina grazie a una borsa di studio. La mia casa era vicina al campus universitario, il che la rendeva una soluzione ideale. Avrei avuto qualcuno in casa in caso di emergenza e lei avrebbe avuto un rifugio lontano dall'ex marito. Accettai l'accordo, assicurando a mio fratello che Cecilia non avrebbe dovuto pagare l'affitto. Poteva scegliere la camera da letto che preferiva. Non mi dispiaceva. Mia moglie e mia figlia avevano preso quasi tutto, lasciando solo il letto e qualche vestito. Mio fratello rimase per il resto della settimana e Cecilia arrivò l'ultimo giorno. L'aiutò a traslocare e lei mi espresse la sua gratitudine, promettendo di essere premurosa, di pulire e di aiutare. Le spiegai che non avrebbe dovuto fare molto, perché la mia infermiera sarebbe venuta sette giorni su sette, invece dei quattro precedenti. Salutai mio fratello e aiutai Cecilia a sistemarsi. Nelle settimane successive le cose andarono relativamente bene. Mi mancavano mia moglie e mia figlia, ma loro non si preoccupavano nemmeno di chiamarmi o di farmi visita. La presenza di Cecilia si rivelò di enorme aiuto. Si occupava della spesa, della maggior parte delle pulizie e persino della preparazione dei pasti, senza mai lamentarsi. Circa un mese e mezzo dopo la partenza di mia moglie, mi dissero che ero libero dal cancro. Decisi subito di chiedere il divorzio, liberandomi da un matrimonio che si era dimostrato di scarso sostegno durante il mio difficile percorso. Una volta avviata la procedura di divorzio, ho iniziato a recuperare le forze. I miei capelli sono ricresciuti, le cicatrici hanno iniziato a guarire e sono ingrassato. Mi sono attenuto al mio regime di pasti sani per la maggior parte del tempo, ma mi sono concesso alcuni giorni di pausa per assaporare i miei pasti preferiti che mi erano mancati durante la malattia. Dopo sei mesi, mi sentivo finalmente pronto ad andare avanti con la mia vita. Ho telefonato al mio vecchio lavoro ed erano disposti a riassumermi da remoto, anche perché avevo intenzione di trasferirmi. Anche se ero affezionato alla mia casa, conteneva troppi ricordi dolorosi. Volevo un nuovo inizio. Avevo intenzione di dare la casa a Cecilia. Mi aveva aiutato quando ero al limite, mostrandomi un'immensa gentilezza, anche se eravamo praticamente estranei. Inoltre, non volevo lasciarla alla mia ex e a mia figlia. Passò più di un anno dalla mia diagnosi iniziale e mi ambientai bene nella nuova casa e nel quartiere. Feci amicizia con molte persone, tra cui la mia vicina, Cristina, una vedova che viveva da sola e che veniva a trovarmi solo a Natale, e per il mio compleanno. Cristina mi invitò nel suo portico per bere e conversare e mi raccontò la storia straziante della perdita del marito per un cancro ai polmoni. Ha sottolineato l'importanza dell'assicurazione sulla vita per la sicurezza finanziaria della sua famiglia. Mi sono aperto su ciò che era successo con la mia ex moglie e mia figlia. Sorprendentemente, non avevo ancora sentito una parola da loro, ma me ne ero fatto una ragione. Ho dedicato il mio tempo a nuovi hobby, in particolare al ritorno dal mio negozio di ferramenta. Cristina mi ha detto di aver notato alcune persone che si aggiravano intorno a casa mia. Fortunatamente non avevano fatto nulla di male o rubato, ma si sono avvicinati alla porta, hanno bussato un paio di volte e alla fine hanno aspettato in macchina. Cristina ha pensato di chiamare la polizia, ma ha deciso di non farlo perché pensava che potessero essere dei miei familiari. Le chiesi di descriverli e la sua descrizione corrispondeva alla mia ex moglie e a mia figlia. Non riuscivo a capire come avessero trovato la mia nuova residenza, visto che solo mio fratello e sua moglie sapevano dove mi trovavo. Moglie conoscevano il mio indirizzo attuale. Mi chiedevo perché mi stessero cercando. Sina mi assicurò che, se fossero tornate, avrebbe gestito lei la situazione. Francamente non avevo alcun desiderio di interagire con loro dopo che mi avevano abbandonato. Più tardi quella sera chiamai mio fratello, che mi informò che mia moglie e mia figlia avevano infastidito Cecilia e la sua coinquilina nella mia vecchia casa. Fortunatamente Cecilia aveva la prova che la casa fosse passata a suo nome e mi aveva spiegato che l'aveva comprata per me. Non credo che la mia ex fosse a conoscenza del divorzio. Ale, il mio avvocato, aveva inviato una copia a casa di sua madre, ma forse lei l'aveva scambiata per della posta indesiderata. Le due si sono presentate di nuovo a casa mentre stavo lavorando. Ho sentito bussare e ho deciso di controllare la telecamera di sicurezza. Seguì il piano che io e Cristina avevamo discusso, rimanere in casa ma avvicinarmi alla porta per sentirle meglio. Cristina, da brava vicina, si avvicinò per salutare e si presentò. La mia ex moglie le chiese se conoscesse un uomo di nome Dario che viveva lì. Cristina sembrò perplessa per l'uso del passato. La mia ex moglie spiegò che suo marito aveva vissuto in questa casa prima della sua recente e prematura scomparsa. Dopo una lunga degenza in ospedale, continuò a sostenere di essere la mia parente più prossima, sottintendendo che la casa era di sua proprietà. Cristina disse che per un periodo aveva vissuto lì una persona di nome Dario, un uomo divorziato, che le aveva detto di essere stato abbandonato dalla moglie, da cui aveva richiesto il divorzio unilaterale. Cristina ha aggiunto che, per quanto ne sapeva, avevo intenzione di lasciare tutti i miei beni in beneficenza. Dato che non avevo altri familiari, trovava strano vedere due donne che curiosavano in casa mia. Poi Cristina chiese se avessero un certificato di morte o un testamento. Le due donne risposero negativamente. Cristina spiegò che, una volta in possesso di quei documenti, avrebbero potuto portarli all'anagrafe. Se erano davvero le legittime proprietarie della proprietà, avrebbero potuto ottenere l'atto al loro nome. La mia ex moglie iniziò a urlare, affermando che Cristina non aveva alcuna autorità per interferire nei suoi affari. Inoltre, l'accusò di essere una ficcanaso. Ero davvero imbarazzato per la sua scenata. Una parte di me voleva andare là fuori e dirgliene quattro, ma scelsi di attenermi al nostro piano. Cristina si scusò e spiegò che stava solo cercando di essere utile. Tornò a casa sua e, poco dopo, la mia ex moglie e mia figlia se ne andarono. Andai a casa di Cristina per scusarmi. Lei disse che, se da un lato trovava ripugnante il comportamento della mia ex moglie, dall'altro trovava lo sfogo divertente. Ero deciso ad affrontare mia moglie, cosa ci successe, il giorno dopo. Ero seduto nel mio ufficio quando ho sentito un forte rumore. Mi sono precipitato in soggiorno e ho trovato la finestra di casa in frantumi e le persone che urlavano fuori. Era la mia ex moglie. Aveva spaccato la finestra e i miei vicini erano fuori a cercare di fermarla. Quando sono uscito, due anziani vicini stavano facendo del loro meglio per impedire alla mia ex di causare altri danni. Sia lei che Stefania avevano in mano delle mazze e avevano già distrutto alcune delle mie piante. La afferrai per un braccio e le chiesi se fosse impazzita. Lei e mia figlia di andarsene dalla proprietà? O avrei chiamato la polizia? Cosa che avevano già fatto i miei vicini. Sembra ferita dalle mie parole e mi chiese perché non l'avessi contattata. Dopo essermi ripreso, le dissi che quando ci eravamo sposati avevamo fatto la promessa di stare l'uno accanto all'altro in salute e in malattia. E lei aveva infranto quella promessa. Non volevo più avere niente a che fare con lei. Lei mi disse che Stefania non poteva pagare la retta universitaria da sola. Gli ho risposto che tua figlia andava bene anche abbandonarmi. E io sono pronto a rinunciare a tutti i miei diritti di genitore. Avreste dovuto pensarci prima di abbandonarmi. Non voglio avere niente a che fare con voi due. Lei mi ha dato dell'egoista. Cosa ce l'ho trovato piuttosto divertente? Dei delle circostanze. Mi sarei assicurato che non ricevesse mai più un centesimo da me. Poi mi ha colpito con una mazza. Proprio mentre arrivava la polizia, hanno immediatamente arrestato sia lei che mia figlia. Mi chiesero se volevo sporgere denuncia e ovviamente lo feci. Avevo registrato tutto quello che era successo. L'avevo già presentato alla polizia. Incuriosito da ciò che aveva fatto tornare la mia ex moglie, ho fatto qualche ricerca. È venuto fuori che sua madre era morta due mesi prima e hanno scoperto che la casa in cui stavano non apparteneva né a lei né al marito, ma al cugino di lui, che aveva deciso di cacciarle perché voleva venderla. Poiché entrambi i genitori della mia ex moglie non c'erano più. Lei e nostra figlia vendettero la maggior parte delle cose e vissero per un po' in un motel. Quando sono tornate nella nostra vecchia casa e hanno visto Cecilia, hanno pensato che fossi morto e hanno cercato le registrazioni dei miei beni e dei miei acquisti e così mi hanno trovato. Vennero accusate di vandalismo, tentata effrazione e tentata aggressione. Poiché Stefania era minorenne, venne condannata ai lavori socialmente utili, ma la mia ex moglie avrebbe dovuto scontare una pena più severa, poiché si trattava di un atto ovviamente premeditato. Sto pensando di ottenere anche un ordine restrittivo. Almeno per ora non dovrò più preoccuparmi di lei per molto tempo.